Giulio inorridisce adesso in questo momento perché siamo collegati in bluetooth attenzione sbc questo è un file 9624 quindi il top della risoluzione bluetooth allora fatemi dire al volo voi ci avevate chiesto un sistema completo voi ci avevate chiesto anche un amplificatore smsl quindi noi abbiamo messo insieme le cose e grazie al distributore italiano di davi ci siamo procurati una coppia di Ariane 1 che è il fantastico modello entry level dell'azienda francese della quale già abbiamo pubblicato un video un diffusore più importante mettendo su un sistemino che secondo noi corrisponde pienamente ai requisiti che ci aveva chiesto il nostro lettore cioè un sistema che il nonno può regalare al nipote anche perché stiamo circa 500 euro 300 e 200 fa 500 la vogliamo dire tutta? la matematica non è un'opinione allora questo qua a un certo momento è stato su Amazon a 135 euro quindi 135 più 3,30 ammesso che poi questo sia il prezzo esatto perché credo che lo street price magari 2,90 più o meno lì ora noi per essere ancora più precisi in questo scenario abbiamo deciso di non collegare le nostre sorgenti cioè più costose ma di utilizzare il bluetooth quello che normalmente il ragazzetto che riceverà questo splendido regalo utilizzerà perfetto quindi secondo noi questo è una buona proposta per un impianto ultra low budget si va ben suonante posso dire una cosa? ringraziamo ancora una volta Solisteel perché oltre a questo splendido Hyperspike HS4 ci ha fornito anche di questi splendidi stand per diffusori che hanno una rifinitura particolare si chiamano vintage sono non verniciati con le saldature a vista esatto sono bellissimi vi facciamo adesso vedere nel dettaglio sono belli da morire proprio belli 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 hanno un'aria tosta bellissimi va bene allora www.audio-2g.com.it subscribe e campanella ci vediamo tra poco io vi prego di notare che Giancarlo per dare un tono giovanile ha messo Filippo Colline ha messo un Filcon in Dantan come dire pensando al giovane che no questo è un brano romantico che normalmente si usa non in compagnia come dire vabbè però è giusto questo sia una cosa vintage come i nostri stand ehm sì esatto molto vintage a basso? a basso a basso allora continua sul display dell'SMSL a comparire la B del logo Bluetooth quindi siamo ancora in ingresso Bluetooth e siamo soddisfatti di questo dunque cosa fa questo amplificatorino? è evidente che è un amplificatore in classe D quindi ce lo possiamo tirare addosso secondo il follower ma lo facciamo subito appena finite le riprese ce lo lanciamo anche perché i suoi bei spigoli la sua corpulenza ce l'hai assolutamente dunque è un amplificatore amplificatore integrato a rispetto delle dimensioni lillipuziane dotato di ingresso XLR ingresso RCA ingresso Bluetooth ingresso Bluetooth USB c'ha un USB per metterci il solito pendrive con le tracce messe sopra e due uscite sub due uscite sub gestibili da menu esattamente il menu è molto passatemi il termine divertente perché avendo un equalizzatore interno ha dei preset esatto quindi ci sono vari generi musicali e uno può scegliere il preset che più gli aggrada ma mi dicevi ah no questo era del Wii sì e quindi da questo punto di vista diciamo tutto molto molto semplice molto molto lineare e quali sono le piccole difficoltà che abbiamo riscontrato le uscite per i diffusori sono veramente molto 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 vicine ci vuole un cavo sì noi abbiamo i nostri cavi della che sono un po' hanno dei connettori furutec di grande sono un po' troppo grandi stanno veramente un po' strizzati però pure noi stiamo chiedendo forse un po' troppo è un accoppiamento assolutamente improbabile veramente improbabile per il resto controllo del volume che funziona in maniera precisa questo è esattamente lo stesso display identico e la stessa manopola del volume del DO300 che abbiamo fatto quindi funziona bene il display si vede abbastanza bene da lontano non c'è nessun difetto secondo me no no assolutamente la navigazione attraverso le varie opzioni per la selezione degli ingressi per le varie cose tutto sommato è piuttosto semplice il display è a colori sì mi sembra aspetta c'è anche il remote control c'è anche un remote control il quale il remote control richiede una procedura di accoppiamento iniziale perché bluetooth sì esatto e che comunque può essere utilizzato anche su altri dispositivi della SMSL per cui vedi il DO300 esatto per cui con una sequenza diciamo di tasti gli si dice guarda che ti stai stai diventando amico dell'amplificatore esatto e quindi poi tutto amplificatore con chip infineon due chip infineon che abbiamo già avuto modo di incontrare in altre nostre avventure diffusori molto interessanti diffusori secondo me veramente molto interessanti perché questi diffusori qui secondo me dal punto di vista costruttivo sono quanto di più classico ci si può immaginare cioè il bookshelf di dimensioni compatte due vie bassa reflex non ci sono voli pindarici di nessun tipo particolari però è realizzato veramente bene tra l'altro c'è una particolarità che ha quattro piedini due più alti e due più bassi fatti a punta questo sicuramente serve per appoggiarle anche sulla scrivania in modo che stanno un po' più alte leggermente più alte perché poi il bass reflex è anteriore e quindi questo permette facilmente di attaccarle anche a una eventuale parete di fondo quindi hanno anche questo tipo di utilizzo immagino la scrivania magari gaming del del nipote del nonno dove poi ci saranno queste casse ci sarà questo amplificatore e lui starà comodo a giocherellare come piace fare anche a me però ecco quello che mi ha veramente colpito di questi piccoli diffusori della Davide è che insomma per 330 euro io non avevo delle aspettative particolarmente elevate io sono rimasto sbalordito sbalordito anche perché le abbiamo sentite collegate al Copland quindi in un setup che noi ben conosciamo perché poi è difficile fare una valutazione quando ci sono due elementi che sono differenti tre con la sorgente bluetooth allora per fare un po' la tara ce le siamo sentite nel sistema normale quindi con l'amplificatore Copland e con il DAC alla scala insomma non è un diffusore che suona come io mi sarei immaginato che suonasse un diffusore da 330 euro quindi veramente tanto di cappello ad un'azienda che poi a dire il vero fa sempre dei prodotti di assolazione beh quelle che abbiamo provato bellissime come si chiamavano quelle quelle dell'anniversario non mi ricordo va bene insomma comunque bellissime strepitose sì allora ridiciamo il prezzo 330 diffusori e l'amplificatore al di là di questo specifico circa 200 200 perché poi il borsino di Amazon cambia continuamente quindi stiamo ragionando che con 550 euro ci siamo portati a casa diffusori eccellenti amplificatore eccellente sorgente ce l'avete già e il telefonino che volete di più dalla vita mancano i cavi se li comprate su Amazon che sono pure buoni quelli di Amazon esatto in rame con la guaina trasparente sono carini e costano due soldi che volete di più basta avete finito sentite la musica mi sembra che non ci sia granché altro allora passiamo allo sventramento poi ci sarà anche un addendum di cui parleremo anche in sede d'ascolto di una piccola modifica che si può fare alle casse un piccolo tweak esatto un piccolo tweak noi non siamo per i tweak ma in questo caso era opportuno e giusto e niente quindi sventramento e poi ascolto a tra poco questo è lo stesso identico pannello frontale che abbiamo visto nel DO300 te lo ricordi Giulio? questo si dice economia di scala fresato o tornito no fresato fresato dal pieno ecco qua con lo stesso display e la stessa manopolina e collegato al retro della manopolina ci dovrebbe essere vabbè è che è un encoder rotativo un encoder rotativo con il pulsante con il pulsante va bene questo è l'estruso l'estruso in alluminio paro paro nessun bello bello cicciotto come spessore e pesante e arriviamo all'interno di questo amplificatore sms che questo è un amplificatore è un amplificatore finale perché di fatto questo c'è una selezione degli ingressi o sì e sì ce li ha perché giusto perché xlr rca certo uscita per due sub mettiamolo così questi sono un po' piccoletti c'è da dire ci metti quasi niente ingresso 220 ok vediamo dentro allora questo è l'alimentatore switching tada tracchiuso in una bellissima protezione in plastica in plastica che serve per la safety perché se tu ci metti la corrente e sei così un pazzo da accendere da accendere e metterci le dita e da metterci un dito per esempio qua o qua potresti fulminarti va bene ok quindi non pensiamo che si tratti di una schermatura perché con la plastica non è poco posso chiudere qui ma io direi che vogliamo vedere che cosa c'è scritto qua allora qui c'è scritto morsum input 100 240 50 60 output 24 volt 9 9,4 ecco ecco quindi questo è un alimentatore da 24 volte che è la tipica classica alimentazione dei chip infine allora chiudiamo chiudiamo qua con con la pezzettina già predisposta da loro esatto questo è il flat che va sulla scheda su un apposito connettore molex 24 volte ce ne potevamo accorgere pure l'acquisto che ci scrive vabbè ma a noi ci piace fare le cose complicate esatto quindi due bei condensatori da 2200 micro farad 25 volte quindi vicini vicini all'alimentazione da 24 volt il che ci piace perché il condensatore elettrolitico funziona meglio loro i signori di smsl lo dichiarano come full balanced e forse pure sì sicuramente lo è questi sono i due chip infineon eccoli qua mi avvicino si si vede anche la sigla la sigla forse chiediamo chiediamo troppo no forse si 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 vede si vede perfetto perfetto ok questo è circuito d'ingresso che sta qui ok fatto bene devo dire con un'alimentazione sua un'altra rail di alimentazione per la parte digitale sta qui eccolo qua eccolo con la con la sua stabilizzazione a parte quindi questo è solo il circuito per la parte analogica e per la parte di controllo digitale per la parte analogica non di potenza e la parte di controllo digitale e poi vediamo questo bel cablaggio veramente bello cablaggio di uscita ok c'è da dire questi chip infine non l'abbiamo visti anche nell'integro di volumio sono chip che sono in grado di erogare alimentati a 24 volte circa 50 watt cosa che dovrebbe corrispondere con meno con la potenza di chiarare vogliamo vedere il pannello posteriore vediamoglielo eccolo qua abbiamo già dato un'occhiata prima gliela ridiamo adesso eccolo qua quindi abbiamo i connettori bilanciati che sto inquadrando right e left questi qua che sono left e right non sono rosso e nero ma glielo perdoniamo due uscite per subwoofer questa uscita usb magari lo diciamo dopo anche sempre perché questa è l'antenna e l'antenna bluetooth forse monta un boh una pennetta usb forse un pen drive esatto e poi i binding post di diffuso microscopici che però accettano banana e questo di salva li salva perché poi ammetterci le forcelle no le forcelle sicuramente non ci stanno il cavo spellato si c'è il foro ma insomma diciamo che ci vogliono le banane non mi fiderei più che tanto vabbè insomma anche qui stiamo sempre ragionando che per il costo mi sembra assai ben fatto assai ben fatto classico classico di smsl sì esattamente e che diciamo che adesso passiamo al diffusore al diffusore al davis eccoci qui davis ariane 1 ariane 1 una mia amica ariane la conosco bene allora questo è un vuferino questo stampo è in metallo le campate sono larghe infatti sono la diciamo la versione economica di come si possono costruire i cestelli perché un cestello così largo dà la ampia possibilità di riflessione vicine dell'emissione del vufer comunque è realizzato in kevlar piuttosto bello robusto complesso magnetico abbastanza generoso ha una bella guarnizione di battuta si dimmi allora a me viene subito da fare una considerazione relativamente al materiale impiegato cioè qui stiamo parlando di un diffusore che è sostanzialmente l'entry level dell'azienda francese Davi che costa al pubblico 330 euro con il kevlar cioè il kevlar è un materiale insomma che uno non è abituato a trovarlo sul diffusore economico beh anche il twitter è bello perché questo è un twitter con cupola in seta da 2,5 cm molto bella la flangia stondata per avvicinare il più possibile il centro di emissione esattamente e quindi eccolo qua che una volta montato riprende la linea della diciamo della fresatura per accogliere il woofer questo serve ad avere entrambi i centri il più possibile vicini di uno agli altri twitter con un complesso magnetico sicuramente in neodimio piuttosto non voglio dire piccolino ma giustamente dimensionato perché poi è un twitter bus reflex ecco quello che è interessante stavo vedendo questa foggia piuttosto inconsueta del tubo d'accordo che comunque è molto comodamente posizionato verso il lato anteriore del mobile quindi questo minimizza i problemi di accoppiamento con queste si possono mettere a scappare abbastanza abbastanza dai su ho interessante l'adozione di un materiale assorbente che è acustico piuttosto spesso sì e il mobile fatto in credo sia intrusionato adesso lo vediamo meglio il mobile intrusionato il filtro sta posteriormente e su questo poi ci facciamo un approfondimento perché noi non siamo mai per il tweaking tu lo sai bene Giulio ma con pochissimi spicci questo poi eccolo qua con pochissimi spicci si può sostituire il condensatore che sta sul tweeter che è questo che è un po' che è un condensatore elettrolitico non polarizzato con un condensatore di maggiore qualità e ottenere poi lo diremo anche in fase di ascolto delle prestazioni decisamente migliori però questo pezzetto di video io lo farei in laboratorio da me perché devo dissaldare saldare quindi è un po' più complicato una cosa mi ripremei a far vedere se rigiri l'oggetto quindi noi qui abbiamo la vaschetta dei contatti ok e solidare la vaschetta dei contatti c'è montata la pcb che contiene il crossover eccola qui quindi ci sono due induttanze induttanze tre resistenze questo è un condensatore sta sicuramente sul woofer e questo invece è il taglio che fa il tweeter ho dunque diffusore con un livello costruttivo secondo me decisamente buono questa è una piccola curiosità coerentemente con quello che dicevamo prima che lo si può mettere accostato a parete addirittura loro qui ti danno la possibilità di appenderlo con questa specie di gancetto quindi può fare anche la canale di posteriori esattamente esattamente detto questo però la foggia del per quanto tradizionale di questo diffusore insomma è comunque un oggetto ben fatto possiamo rivedere l'attacco fra il mobile e il pannello frontale insomma ecco anche qui un livello di finitura secondo me buono a fronte torno a dirlo di un prezzo veramente di assalto bene direi che ci siamo lo possiamo richiudere e andarcelo a sentire ok allora cari amici come fare a smontare questo filtro per fare la sostituzione del condensatore molto semplice allora svitiamo queste due viti qui una volta ecco qua basta svitare tutto ecco qua vengono da sole una ecco qua una seconda molto molto semplice ecco qui poi svitiamo uno due tre e quattro uno due tre e quattro così si stacca il condensatore da togliere è questo da 4,7 attenzione perché come vedete qui ha la colla io adesso per semplicità di video l'ho già dissaldato e scollato comunque è molto semplice eccolo qui poi lo vedete anche dopo eccolo qua vedete la colla ma basta fare un po' di leva con un cacciavite in questo caso un cacciavite un po' grande qui sotto puntando il saldatore e il condensatore viene via adesso nella seconda parte del video vi faccio vedere il montaggio del condensatore nuovo a tra poco piazzole pulite eccole qua 1 e 2 eccole qua 1 e 2 questo è il condensatore che ho comprato su Amazon eccolo qui 4,7 microfarad 250 volt ma se lo trovate da 100 volt è ancora meglio perché è più piccolo io ho usato questo solo perché l'ho trovato facilmente su Amazon a prezzo basso se voi ne trovate uno a prezzo migliore tanto vale che prendete quello che trovate voi non è un problema quindi inserite il condensatore eccolo qua poi saldate i reofori vedete vedete che sta bene qui dentro senza problemi saldate i due reofori sotto e poi rimontate tutto eccolo qua dal punto di vista dimensionale il condensatore è giusto e quindi non avrete grossi problemi ok poi rimontate tutto adesso vediamo all'ascolto se ci saranno meno differenze tra questo condensatore che è quello che abbiamo sostituito quello che abbiamo messo nuovo e quello che è l'elettrolitico eccolo qui non polarizzato che è questo non vi fate ovviamente ingannare dalle dimensioni è una questione di tecnologia e vabbè il nostro primo impianto completo posso dire una cosa ci fossero state elettroniche così quando io avevo 20 anni ecco sinceramente perché invece perché all'epoca nostra per sentire in un certo modo ti dovevi comprare un integratino abbastanza costoso una coppia di casse discreta e spendevi un milione e mezzo due milioni quanto spendevi per comprarti il Nando 30-20 mi pare 800 mila lire 700 mila lire poi le casse a due vie dell'epoca forse c'erano le AR che non erano male no certo le AR però stiamo parlando delle cose buone e io mi ricordo vabbè c'erano qualche RCF stavo dicendolo e qualche indiana line esatto BR40 BR41 l'indiana line Utah 3X bravo che mi piacevano tanto c'erano i led che si accendevano sul pannello frontale tipo tipo ESB esatto vabbè sì certo però sempre specchio dei tempi no quelli lì erano degli impianti per audiofili in miniatura che sarebbero diventati da grandi dei rimbambiti come noi sì non lo sapevamo ma stavamo gettando le basi le fondamenta per diventare due vecchi i babbioni che solide fondamenti esatto dopo 50 anni ancora ragionano di questa roba qua e questo impiantino qui secondo me l'ho trovato fresco aria fresca perché sdramatizza tutto poi è piccolo lo metti dappertutto non te crea problemi è facile da utilizzare c'ha quelle due cavolo di antennine del bluetooth che però sì è vera una vabbè una una secondo me lo vedi anche al banco però funziona io lo capisco se hai 15 anni 14 anni che ti frega c'hai il tuo smartphone blip blop si sente si sente bene che ti devo dire si sente bene con un ampio margine di crescita per cui se tu sei partito da spotify schifoso fino ad arrivare a qualche cosa di meglio che può essere non lo so che adesso stavo dicendo il cd mi immagino quello di 14 anni con il cd veramente te li tira in testa ma comunque si è insomma è un impianto secondo me i diffusori in particolar modo che ti permette una crescita anche nella tua capacità di valutazione e di apprezzare quello che stai ascoltando anche perché il tweaking che abbiamo fatto e che può fare un radiotecnico se nessuno in famiglia è in grado di utilizzare un saldatore con circa 8 euro permette già quello un grosso aumento di prestazioni certamente e qui ritorniamo un attimo a bomba stiamo parlando di un impianto che costa nel suo della sua intierezza 500 euro poco più di 500 euro poi visto col borsino di amazon che magari ieri quell'integrato era ricondizionato a 136 euro l'amplificatore ecco per cui intorno ai 500 euro e con un rapporto qualità prezzo spaventoso poi certo se dobbiamo fare la nostra pagellina e il chip infine ha qualche limite che poi riflettevo sul fatto che non ha neanche il dissipatore perché noi abbiamo fatto due amplificatori da 50 watt il 778X che ha dei dispositivi in classe AB e quindi ha la letta di raffreddamento lì dentro non c'è neanche la letta quindi non scalda neanche quella cammina freddo cammina freddo esatto e quindi secondo me non c'è una grandissima capacità di pilotaggio e quindi vanno bene quelle casse se alzi un po' la focalizzazione insomma gli strumenti si sgonfiano un po' sì allora ci tengo a sottolineare questa cosa noi abbiamo fatto questo sistemino completo pensando al famoso nonno che faceva il regalo al nipote per la promozione e va benissimo mi piace però sottolineare il fatto che tolto l'amplificatore tenuti i diffusori quindi mi immagino questo figlio che è un po' cresciuto e magari ha messo da parte qualche soldino perché gli piace l'ascolto buono può tenersi tranquillamente quei diffusori e mettergli un amplificatore di livello superiore certo perché quando noi abbiamo collegato quei da vis al copland che sta qui davanti a noi è accidenti se si sono fatti sentire si abbiamo fatto un incesto povero pover vabbè però hanno dato prova di essere i diffusori che per carità suonano bene con l'amplificatorino da 126 euro ma il loro margine di crescita è enorme perché è un progetto e una realizzazione veramente incomiabile anche lì c'è da stupirsi come diavolo facciano con una cifra così bassa a riuscire a metterli sul mercato però tanto di cappello tanto di cappello tanto di cappello va bene quello che mi sentirei rispetto ai diffusori forse di sconsigliare è di utilizzare quell'asolina che c'hanno dietro per tanti diffusori piccoli li ce l'hanno sì però insomma mamma mia mi sembra proprio una crudeltà sì una crudeltà molto meglio metterle sul tavolino sì sul tavolino che adesso hanno due zampette davanti per tenerli per tenerli leggermente inclinati e quindi va bene così ecco quelli sono dei diffusori che peraltro vanno benissimo come mini monitor da scrivania esatto se avete la vostra postazione dove vi piace ascoltare della musica e ve la volete ascoltare un po' meglio che con gli speaker del computer parecchio meglio ecco quelli lì secondo me potrebbe essere un'ottima idea quindi va bene complimenti a Davies complimenti a SMSL al quale però diamo una sonora tirata d'orecchie per non averci mai mandato niente di quello che c'è adesso le promesse non sono più da marinaio ma sono da SMSL le famose promesse da SMSL però speriamo che si ravvedano e ci mandano qualche cosa bene grazie se il video vi è piaciuto fate click su subscribe sulla campanella e noi lo abbiamo già detto in uno short ma lo ridiciamo anche adesso siamo più di 2000 però secondo me quando va online ah no si questo fra poco va online quindi saremo un 2020 2030 2050 insomma per noi sono numeri importanti ciao 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 ciao